Ciao sono Jill Cooper e benvenuti a mio reality, Love Style. Attraverso l'amore, attraverso il movimento, attraverso l'energia, con Jill e con i miei amici Davide e Ciro partiamo su un viaggio, partiamo su un nuovo viaggio per aiutare le persone a stare bene con loro stessi non soltanto attraverso il movimento ma anche attraverso l'alimentazione, integrazione, ma ancora di più, ancora di più attraverso un sano autostima e amore per se stessi. Questo si chiama Love Style. Troviamo la nostra forma fisica insieme.